Stiamo ragionando con i colleghi di FIOMM e Wilm proprio perché un segnale vogliamo darlo, un ennesimo segnale, forse sarà l'ennesimo tentativo per provare a sollecitare tutti, aziende, lavoratori e istituzioni rispetto a questo tema. Pensiamo comunque di attivare delle azioni di sciopero nelle aziende, non tanto contro le aziende, ma proprio per sensibilizzare il mondo, la società rispetto a un tema che altrimenti rischia di diventare un'abitudine. I sindacati stanno valutando l'ipotesi, ma è possibile che a febbraio si possa assistere ad una serie di scioperi, astensioni dal lavoro magari brevi ma dal forte significato. A Padova l'emergenza sicurezza sul lavoro rimane una priorità su cui le organizzazioni dei lavoratori non intendono abbassare la guardia. È un tema ampio, reso complesso da una realtà economica variegata, che chiede un forte impegno alla politica, ma passa anche attraverso un'attività di sensibilizzazione dei lavoratori stessi. Noi abbiamo in qualche modo anche ultimamente sollecitato l'istituzione, c'è stato anche un incontro al prefetto a fine anno 2018, dove abbiamo cercato di sviluppare le azioni da fare per poter affrontare il tema. È ovvio che non è un tema semplice, non è neanche di semplice soluzione, perché le morti si verificano nelle aziende più disparate. Si sta cercando di fare un sondaggio a livello regionale insieme alla Regione Veneto per capire dove possono essere gli ambiti di intervento, ma non è semplice.